Ciao ragazzi, ma what the fuck cosa è successo? Boh, anche la cosa è... Ma no, ragazzi, è cambiato tutto, raga Anche la cosa è cambiato, raga Ragazzi, è cambiato proprio Non so che ora Cioè, poi vai 4, 2, 2 e tutto è uguale Ma proprio What the fuck Che bello, raga È cambiato, cioè, è proprio Spero che domani Mamma mia, è bellissimo Però, raga, è proprio bellissimo Scusate, perché così Riesco di non farlo Buggare Bello, raga Bello Cos'è questo, poi? Ah, no, i messaggi Però, ovviamente, questo qui, sì Tutto il gruppo Questo qui sono i balli Però, sì Mi sembra un'altra volta Poi qua E Cagano qua tutti, ragazzi Boh, ragazzi Proprio mai singolo, raga Perché Ragazzi Mi sento come i shimik ragazzi E ragazzi Senti, ragazzi Ehm, non so Come si fa Come si fa Mette, poi c'è Proprio Mi sembra che ho sposto, ragazzi Boh Ragazzi Lo metto Lo metto Cioè Lo Cioè Io ragazzi Lo sceleziono così Le ore Perché Così I 14 giorni Ragazzi 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 Mancano Oggi Cioè Non manca più una settimana Cioè Manca sempre Quasi sempre una settimana Anche la scuola Ma Niente Quanto manca, raga Ehm Oggi Oggi C'è ne poi Non lo so Ah Questo qui È giusto Sì Perché poi Il game è giusto Ragazzi Perché Perché Metto Questo Questo qua Così Perché Ok E ho andato a vedere What La mappa Cioè Giusto Io sto mattino Ma Ovviamente È bellissima La mappa Quindi Forest Fini Andiamo Sì Anzi A Stark Industries Perché È una fittà Appare che Non ci vorrei andare Perché Io sono Nabbu Poi Mi lagga No Dai Ragazzi Vado 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 Quanto Vado Adesso Non ci vedo Prima Wow Ah Porcacchi Vabbè Fin da qua Do c'è Il cimitino Di senti I senti Nel Perché Può Oh no Ok Posso giusto Posso giusto Perché Perché qua Fa' Spignante E Questo qui Il posto Che Devo Anco a scoprire Il posto Che Non so Come Che Come Cacchio Si chiama Ragazzi A Mentre Vado Che Io Non so Come Come Di Cominati Youtuber Che Se Perdono E Il video Corto E Cominciamo La quantità Cioè Se il video Proprio È durato Chissà E In Meno Cinque Minuti Ok Però Se dura Perché Poi Il video È già Porto Eh Però Sono Proprio Che Proprio Fanno Grave Il video Tipo Oh Oh Ok ragazzi Mi sembra che è nel gioco raga Mi laggava raga E' veramente bellissimo E' che invece non so quando Perché la Epic sta Facendo dei test Per questa Magari per proprio Cioè è bello perché La Epic deve un po' chiamare la roba Perché questa cosa è stata Cioè la lobby Intendo i posti della lobby Intendo soltanto i posti della lobby Cioè i tasti Devo cambiare un po' di cose E' anche cambiato Ho visto anche dopo Dopo Ho finito questo game Spero che vi finca A più presto Su Fetaglia Se ho letto male Non so se ho letto male Però Non mi pareva che Avete detto Oggi O a George Rift Per fortuna Che avete detto Adesso In lobby C'è un nuovo stile La lobby Anche le lune Come sono messo Iron Man Cioè Non è che Non ho letto Sono a parte Che non ho letto Io devo dire niente Però Io spero Che si poteva Dere Che Spero Tutti qua Le lune Si sono accese Un pochino Sono per Io non so se Anche gli altri Lo sanno Però Sono per I portali Ragazzi Tutto finché non tovo Gente E Vado in giro Finché non tovo gente E ci Siamo subito Ragazzi Sono fuori Safe Direi di andare Questa qui Non so cos'è Non so se sono I resti Fattori E' frenetica Quella cazzo Si vede Si vede Si vede Temo Baniche Adesso Non so Sorte Anche per Per Station 4 O Solo Per oggi Che magari Ha caricato Ma la partita Però Realmente Si vede What Questa cosa Di E' Andario Beh Però Sino Non so Si vede Malissimo Si vede Ma la grafica Si vede Ma la grafica Strano Ma Vero Guarda Si vede Si vede Forse 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 Right Però Questo video Guardatelo Vi prego Guardatelo Tutto Ditemi Nei commenti Ci sono Gli Sono attivati i commenti Ci sono i commenti Non so perché Una vanilla Una vanilla Proprio Vanilla Vanilla Non dico Un hardcore Cioè Una vanilla Una vanilla Survival Che mantengo L'inventario Che mantengo L'inventario Se voi Scegliete O vanilla Su minecraft Vita Vita Su minecraft Vanilla Su minecraft Perché Poi La vanilla E Una vita Su minecraft Perché La vita Curbettura Su minecraft E Una seconda stagione Su minecraft Oppure Ditemi qualcosa Ragazzi Ragazzi Ho una kill E non trovo Gente Veda Ragazzi Non so Sostenere La rivolvere Perché La rivolvere Come Ecco La La uso Con pistola Ragazzi Quindi Potrei Buttare Via Questa Perché La rivolvere È una pistola Da Sì Dai Ho scelto Cioè Ho scelto Anche prima Che Lucevo Ma Ho già Peso Il L'Eatrop Perché C'è Questo Bago Che Signale Anche L'Eatrop Sì Gli Spacchi Per fortuna Con la patch 14.10 Hanno risolto I Bagli Il Nuo Livello Il 38 Let's Go Sì Groot No Buurga ok quattro kill che io facevo delle belle partite non lo dimostro però le faccio non lo faccio, non lo faccio non lo faccio, non lo faccio questo qui posso vedere come lo salto mi serve questo qui al posto ok non lo faccio scegliere perchè poi i cilidini ma non c'è la seif porcacchi no medikit, tu scappate medikit a lottori tra un pottori vediamo un pottori che ne faccio non c'è un pottori non posso leggere perché non c'è un pittore ma c'è un pottori con un pottori non c'è un problema non c'è un pottori non c'è un pottor un po' meno anche chi mi ripara ragazzi se non sono in safe ecco un po' rispetta un po' qua questo lo si vede malissimo ragazzi terzo però terzo ragazzi terzo con quante kill guarda ragazzi quante kill 5 kill che poi anche hanno aggiunto anche le parti se non giocatore e tutto ha messo le capie parti se non giocatori non alla lobby spettatore non so che le cose 4 e 4 cose qua ragazzi spero che ragazzi è un po' se non abbia messo sempre qualcosa di brutto ragazzi bellissime riscatta salve di chi ragazzi vede salvalo qua ragazzi guardate ragazzi che sta ragazzi come sempre aspettate ragazzi che adesso è qua torno qua torno al centro gruppi ragazzi e non ne parlare ragazzi allora ragazzi usciamo allora ragazzi è questo qui che guarda è questo qui che guarda su effitalia ragazzi poi cosa so manca per farvi vedere pure che era questo qui pensate un nuovo esempio per i negozi oggetti a parte delle da oggi la epic ah oggi ok la epic riserà un nuovo esempio per i negozi oggetti negozi del testo alcuni giocatori verranno un disegno diverso per i negozi oggetti oggetti e pressi riseranno identici per tutti i indipendimenti dal disegno più esatto cambia solo la presentazione spero che sia proprio così anche come esempio poi sono sette minuti allora minecraft intanto vedete che io ho avuto qua su minecraft una cosa gioca con la fortuna il mio il mio cosa si chiama il mio il mio let's play che faccio non a video faccio così si chiama guardate cosa ho trovato due diamanti due diamanti se non avete visto ragazzi magari dentro il video e mettete in pausa appena poi l'inventario ragazzi come sempre vi saluto like iscriviti al canale codice inter like iscriviti al canale niente ragazzi attivate la campanella e noi ci vediamo in un prossimo video ciao ragazzi ciao 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 Grazie a tutti.